Una grande festa per riqualificare con i murales e la street art, due sottopassaggi della città di Imola, è la manifestazione Restart organizzata dai ragazzi dell'Associazione Noi Giovani che propongono l'evento per il secondo anno consecutivo. L'obiettivo è dare vita a un progetto di rivalutazione artistico-culturale di un luogo spoglio della città, creando intorno alla realizzazione dei dipinti tre giorni di musica, incontri, sport e divertimento. L'iniziativa è supportata da Avis, comune di Imola, Centro Giovani Cavaina, insieme ai locali che ospitano l'evento. Allora, l'anno scorso è stato organizzato questo evento alla Palestra della Volta, coinvolgendo per la maggior parte artisti locali della città e si è deciso di dare molto spazio anche alle altre forme di d'arte urbana, come breakdance, concerti e esposizioni. Quest'anno rifaremo la stessa cosa, cambiamo di location, siamo qui nel Parco delle Acque Minerali di Imola. I concerti verranno realizzati all'interno della cornice del Bar Renzo, che ospita l'iniziativa. Per quanto riguarda le superfici murali interessate al nostro intervento, sono quella del sottopassaggio, che potete vedere alle mie spalle, e quella dell'altro sottopassaggio che da Renzo porta alla Via Rosa. Quindi un evento a 360 gradi, con spettacoli di arte circense, esposizioni, live painting, band al vivo, DJ set fino a tarda serata, insomma una tre giorni veramente ricca di happening.